Quanto è importante il ruolo di un coro all'interno di una parrocchia? Il coro nell'ambito di una parrocchia è una cosa molto importante, un elemento importante. Per esempio nella celebrazione della liturgia eucaristica della domenica, delle feste, anima proprio tutta la messa e attira anche le persone a cantare insieme a te. Il nostro è un coro vecchissimo, nato nel 1936 sotto il maestro Dosato, poi adesso chiaramente ci siamo evoluti, però vediamo che mano a mano riusciamo a far cantare anche tutta l'assemblea, a pregare due volte, perché cantando si prega due volte. E' importante, io parlo almeno per quanto riguarda la mia esperienza, da fedele di una parrocchia, ancora prima che da Coreuta. Il canto durante la liturgia è un momento che mi aiuta a entrare nella liturgia, a stare più attento a quello che succede, a capire meglio anche i brani, le formule e che aiuta a pregare sostanzialmente. Il coro secondo me è un punto di aggregazione innanzitutto delle persone che vogliono partecipare attivamente alla vita parrocchiale. Nella nostra esperienza, quella dei giovani universitari è veramente un punto di riferimento. Noi abbiamo 20 giovani, siamo 20 amici e nella nostra messa delle 20 riusciamo a guidare la nostra assemblea con partecipazione. L'importanza del coro in una messa sta nel saper creare un momento di intensità e di preghiera, di raccoglimento per una preghiera più intensa. Infatti quello che dico sempre ai miei coristi e ai miei ragazzi è di rendere quel momento di canto un momento di partecipazione di tutti. E questa è l'importanza anche del cantare bene, non del cantare tecnicamente bene, ma di mettere l'assemblea nella predisposizione d'animo di pregare bene. Beh diciamo che secondo noi è importante per valorizzare il momento liturgico dall'inizio alla fine, cioè la liturgia va comunque animata perché io credo che le persone si sentano più coinvolte. L'assemblea si sente più coinvolta in tutti i momenti della liturgia, dall'inizio alla fine, perché il canto credo che sia l'elevazione dello spirito. E nel momento in cui le persone cantano credo che se è vero che la bellezza avvicina a Dio è qualcosa che accentua questo e quindi la liturgia diventa più bella, diventa più sentita. Quindi credo che comunque il coro faccia questo, aiuti a fare questo. Direi che è un ruolo fondamentale, importantissimo per sostenere la liturgia e per aiutare tutta l'assemblea a pregare. E' una tradizione molto antica questa e quindi è bello poter accompagnare ogni momento della messa con il canto. Per quanto riguarda quella che è la nostra esperienza, la cosa che secondo noi è più importante e preponderante è l'essere gruppo. Principalmente fare unione, nel senso che noi abbiamo intrapreso questo percorso che poi fondamentalmente è un percorso di fede, aiutarci con il canto nella preghiera, che è stato per noi proprio un collante, sia per noi coro che anche poi per quella che è la nostra comunità parrocchiale, perché noi siamo un coro veramente molto variegato, ce n'è per tutti i gusti, diciamo. Quindi il fatto proprio di avere un gruppo a cui far riferimento è stato molto importante. Siamo un gruppo comunque coeso e questo ci ha aiutato molto. Per quanto riguarda anche la liturgia, beh, questo per noi il coro, il canto comunque è un modo per elevarci, fare elevare noi e anche aiutare l'assemblea nell'elevazione e quindi nella preghiera. Quindi anche all'interno della liturgia per noi è fondamentale. Per noi una messa diciamo animata è d'obbligo. Quello sì, principalmente ecco questo, il fatto proprio di essere un gruppo, di fare unione, di sostenerci e quindi di fare un cammino insieme di fede, anche umano, fondamentalmente anche quello.